L'auditorium Scavolini può essere un valore aggiunto per il turismo di Pesero, ma ha bisogno di gestione manageriale e capacità di programmazione. Requisiti che reclama l'Apa Hotels attraverso il suo presidente Marco Filippetti di fronte ad un dibattito sull'accoglienza di un turismo sportivo che secondo il presidente degli albergatori non può essere il core business della struttura che invece deve guardare soprattutto al mercato convegnistico e congressuale. Secondo Filippetti lo sport porta presenze con ridotta capacità di spesa a differenza del settore business e medicale che crea un indotto di cui beneficia l'intera città e non solo il comparto alberghiero. Lo stesso Filippetti enfatizza però il fatto che arrivati a metà novembre ancora non si sa chi gestirà la struttura nel 2025 in quanto Aspes ad oggi risulta come un semplice consulente. Una situazione che sta creando ritardo nella programmazione. A Potels chiede dunque una gestione manageriale dell'auditorium Scavolini che scelga su quale effetto di mercato puntare programmando le attività anno per anno e non mese per mese.